È necessario sollecitare attenzione, rivendicare diritti, chiedere sicurezza e speranza. Naturalmente dobbiamo spiegare che l'analisi sia realistica e se occorre persino cruda delle difficoltà che incontra il sistema scolastico, ma che non si tassormi mai né in rassegnazione né in pregiudiziale pessimismo. È una buona notizia, ad esempio, che ieri, a inizio di anno scolastico, siano stati assegnati alle scuole i fondi per il loro funzionamento e che l'ora a montare sia complessivamente raddoppiato. Come altro settore chiave della vita nazionale, la scuola ha bisogno di leggi, di riforme, di risorse, di amministrazione attente ed efficiente. Occorre che ogni sforzo venga messo in campo e sia sorretto e accompagnato dei comportamenti concretamente messi in atto da tutti i suoi protagonisti, tenendo conto che particolarmente nel mondo della scuola sono decisivi l'impegno e la dedizione delle persone che vi operano e la qualità dei rapporti umani che vi si instaurano. Grazie.